buongiorno a tutti e ben trovati con un nuovo appuntamento dedicato alle interviste oggi parliamo di turismo di promozione del territorio e lo facciamo con giuliano vantaggi direttore della dmo dolomiti che ringraziamo per aver accettato il nostro invito grazie di essere qui giuliano buongiorno a tutti grazie a voi partirei subito ricordando che il tuo incarico la tua nomina direttore risale ad aprile la primavera dello scorso anno del 2018 e il tuo primo compito è stato quello di mettere di far diventare realtà di concretizzare il piano di marketing elaborato dall'Eurac però forse il tuo compito prioritario sin dall'inizio è stato quello di cercare di creare a livello territoriale quell'unità che fa fatica ad esserci visto che i campanili sono ancora piuttosto marcati e facciamo fatica anche a promuoverci in modo unitario a che punto siamo su questo percorso sei soddisfatto di quello che si è riusciti a fare finora sono molto soddisfatto perché anche negli scorsi giorni abbiamo avuto un incontro con tutti i consorzi sono venuti tutti i consorzi di valle e abbiamo creato una sinergia una strategia unitaria vogliamo assolutamente presentare il marchio dolomiti the mountains of venice o comunque il prodotto turistico della provincia di belluno tutti quanti unitariamente insieme ognuno chiaramente con le sue caratteristiche con le sue specifiche perché ogni zona ha delle bellezze particolari che è giusto che vengano evidenziate dai consorzi di valle ma quando ci vede per esempio la gente da fuori comincia veramente a identificare dolomiti the mountains of venice comincia a identificare questo territorio dolomitico molto vicino a venezia che detiene il 46,1 per cento dei dolomiti patrimonio dell'umanità e di fatto il fatto che noi oggi siamo molto molto vicini a venezia permette proprio uno scambio continuo tra la città lagunare e noi quindi diciamo anche la scelta appunto di questo marchio della frase inserita nel marchio dolomiti di venezia si sta rivelando vincente nonostante le polemiche con cui era stata accolta le critiche le perplessità sì è una strategia regionale che parte dal marchio del land of venice noi siamo partiti insieme a treviso che è the garden of venice noi siamo the mountains of venice e adesso sono arrivate le spiagge con venice sands e le ville venete con venetian villas e di fatto si fa capire al turista internazionale che comunque venezia è un mondo è un sistema è un sistema diciamo che si può raggiungere da varie destinazioni tutte bellissime oggi per esempio si pensi che la zona recentemente diventata patrimonio ma età del prosecco genererà un indotto incredibile anche in val belluna perché il prosecco è baricentrico e la parte a nord della val belluna e il feltrino e tutti i pernottamenti saranno anche dislocati verso il feltrino e la val belluna quando diciamo un turista straniero identifica e progetta un viaggio in italia quali sono le parole chiave e anche facendo riferimento un po al nostro territorio quello veneto le motivazioni principali da uno studio fatto nel 2016 sono collegate a quattro parole fondamentali venezia ovviamente unesco perché unesco è un termine che riconoscono il mondo e poi c'è un c'era prosecco e grande guerra questo era stato fatto proprio quindi unesco e non dolomiti unesco e non dolomiti no unesco è il marchio veramente forte nel mondo e poi chiaro quando noi lo uniamo la parola dolomiti dolomiti unesco diventa importante perché alcune zone del mondo come canada e giappone hanno l'insegnamento a scuola e nella parte di geografia del territorio unesco mondiale questo è importantissimo perché già i ragazzi quando crescono si rendono conto che c'è questo ente internazionale che è un qualsivoglia importante nel senso che è un ente certificatore della bellezza universale noi siamo in quel sistema di bellezza universale con le dolomiti patrimoniali dell'umanità e un aspetto che viene ricercato di frequente è anche quello della bellezza ambientale della salubrità dell'ambiente del luogo in cui si va a soggiornare giusto? sì assolutamente cioè oggi il turista richiede proprio questo e bisogna anche considerare che è anche il nostro plus per esempio in prodotti maturi come è lo sci per noi i conversori sciistici sono veramente meravigliosi da noi da noi si scia veramente apprezzando il paesaggio più bello del mondo cosa che non è possibile in altre zone sciistiche del mondo e questa è una cosa molto importante ma in generale comunque le persone oggi vogliono venire a vedere luoghi dove stanno a pensare sono a visitarli in maniera tranquilla in maniera slow c'è questo boom del cicloturismo soprattutto dovuto alla bicicletta pedalata assistita che permette di arrivare su luoghi abbastanza facilmente che invece una volta che erano difficilmente accessibili quindi questo è molto importante e poi tutto questo è un mix con l'enogastronomia che è il più grande attrattore che esiste in questo momento per lo spostamento del turista al mondo cioè circa la metà dei viaggi programmati nel mondo sono programmati anche per un'esperienza enogastronomica o agroalimentare e noi siamo fortissimi sì noi siamo fortissimi l'importante però è conoscere quello che abbiamo perché se non lo conosciamo non sappiamo nemmeno valorizzarlo e qui secondo me si tocca un tasto no diciamo che o comincia ad aumentare a crescere questa consapevolezza il territorio sta cominciando a crescere in maniera molto importante bisogna fare un plauso anche a tutti gli enti formativi regionali che abbiamo in provincia di Belluno che hanno voltato già da tempo molte corsi formativi nella conoscenza del territorio e mi vengono in mente associazioni di categoria come Confcommercio ma anche percorsi come per esempio il centro consorzi o percorsi come l'IA Confindustria o Confarticianato o in generale associazioni di categoria sono veramente molto importanti perché creano consapevolezza della bellezza del territorio che viviamo ok ok quindi c'è un percorso di crescita anche in questo senso sì è un percorso di crescita e tra l'altro adesso è stato segmentato in due parti la prima parte è proprio un percorso di crescita nel capire cosa abbiamo effettivamente di bello la seconda parte è un percorso di crescita di alta formazione e si sta muovendo sia la parte del Gall Prealpi e Dolomiti che la parte di Certotica sul management invece cioè sul creare manager di territorio, manager che riescano a promuovere il territorio nel mondo che è importantissimo ok e poco fa mi parlavi di turismo lento, turismo esperienziale a questo proposito avevate presentato di recente il progetto l'acronimo Piave a che punto siamo? Perché se non sbaglio dovevano anche essere predisposti dei pacchetti turistici sì, no è importante capire che oggi questo percorso si chiuderà alla fine di ottobre assieme ad altri percorsi ci sarà una presentazione generale nella cittadina di Esolo che poi è la foccia del Piave ma bisogna capire che oggi il Piave è diventato di fatto il fiume della grande bellezza perché ha quattro patrimoni di umanità Venezia, Ville Venete, Prosecco e Dolomiti e di fatto potrebbe essere l'alternativa italiana a Compostela potrebbe essere il fiume da risalire perché comunque è un fiume sacro è uno dei tre fiumi sacri al mondo ma è l'unico fiume sacro per motivi non religiosi o dovuti a civiltà perché per esempio il Nilo è sacro per la civiltà egizia e il Ganji invece per la cultura e della religione indiana e quindi questa è una cosa importantissima potrebbe essere veramente una cosa molto importante anche perché i tre consorzi BIM del Piave si sono riuniti e stanno ragionando su un progetto che si chiamerà Visit Piave e stanno anche ragionando su una possibile ciclabilità futura completa del Piave perché oggi non è completa, è solo a tratti tratti bellissimi però che sono uniti alcune volte da tratti normali di strada e noi stiamo ragionando su come invece unirli completamente grazie anche allo sforzo di molti amministratori comunali che riescono a progettare ciclabili che poi permettano di unire questi pezzi Ok, quindi anche su questo fronte c'è parecchio lavoro che sta andando avanti e anche molto che ne verrà fatto La DMO adesso ha avviato anche tutta una serie di appuntamenti che riguardano la promozione all'estero avete iniziato nelle scorse settimane con la Spagna e continuerete per tutti i prossimi mesi invernali fino a dicembre praticamente Sì, siamo partiti con la Spagna perché c'è stata una richiesta dell'ENIT cioè dell'Ente Nazionale del Turismo di essere presenti alla Vuelta con il bellissimo prodotto che noi avevamo fatto le salite della leggenda del Giro d'Italia un prodotto che sta guardando molto anche la Vuelta è stato veramente un bagno di folla durante le tappe di partenza e di arrivo perché eravamo sia su tutte le partenze che su tutti gli arrivi unico territorio in Italia con l'ENIT e poi abbiamo fatto una presentazione a 28 tour operator e giornalisti e bloggers e anche quella è andata molto molto bene e ci sono state richieste incredibili anche che stanno pervenendo per venire a vedere questo territorio bellissimo poi continueremo con la fiera di siti UNESCO adesso a Roma andremo alla fiera di siti UNESCO proprio presentando il Piave il fiume della grande bellezza e insieme ci sarà una delegazione della DMO che ad Arroghetta in Mondiale di Ciclismo presenterà con l'Emilia Romagna la bellezza del cicloturismo in Italia Dolomiti ed Emilia Romagna insieme proprio per vedere per far vedere che facciamo sinergia quindi ci sarà Dolomiti Show la bellissima fiera della montagna che ha a Longarone Fiere assieme ai buoni motivi quindi andremo al Bay Veneto che è la fiera dove l'incontro con i tour operator internazionali poi si andrà al TTG di Rimini in assoluto la fiera del turismo più grande in Italia ha sorpassato la BIT e la cercheremo e incontreremo un sacco di tour operator e di giornalisti e poi andremo a Matera per un'idea di Confindustria Belluno Dolomiti di fare un incontro a Matera 2019 ci presenteremo uniti con un progetto che riguarda Olimpia di 56, Olimpia di 2026 un ponte per un territorio che si prepara a queste emozioni olimpiche quindi ci sarà poi una serie di educational collegati per esempio a Wikipedia 10 cose.it per implementare anche tutti i nostri meccanismi di diffusione dell'informazione e poi andremo alla fiera di Londra, al WTM e sarà seguita da un altro incontro con i tour operator a Roma dalla fiera del turismo congressuale a Barcellona e quindi alle serate internazionali di presentazione ai tour operator che saranno a Londra e Helsinki quest'anno Londra per il mercato anglosassone, francese e belga e invece Helsinki per il mercato scandinavo e russo poi c'è Lettonia, Estonia e Lituania quindi veramente ci stiamo preparando per una stagione incredibile probabilmente ai primi di dicembre a Roma presenteremo la guida che stiamo costruendo la guida enogastronomica della provincia di Belluno con le guide della Repubblica e questa è una cosa molto importante e tutte queste iniziative, queste attività di promozione come si stanno concretizzando dal punto di vista dei numeri cioè degli arrivi, delle presenze nel nostro territorio hai dei dati aggiornati? Sì, è un anno di cambiamento bisogna dirlo nel senso che gli arrivi aumentano un po' ma i pernottamenti sono più o meno simili cosa che invece in altri territori non ci sono le spiagge quest'anno o meno 14 per esempio però noi stiamo cambiando il tipo di turista che arriva stiamo avendo un turista sempre più internazionale probabilmente sforeremo il 50% di internazionale quest'anno questo è molto importante ma è importante anche vedere che stanno sia si è alzata l'attenzione su possibili investimenti esterni nella nostra provincia per fare hotellerie sia per quanto riguarda invece la possibilità di rimettere a posto casolari di campagna per fare invece locazioni turistiche e questo è molto importante perché il territorio sta rispondendo a un'esigenza di volontà, di grande bellezza che è il nostro punto di forza da parte del turista internazionale ok, turista internazionale quali sono i paesi emergenti dal punto di vista turistico? è separata la parte invernale da quella estiva nella parte invernale c'è sempre la Germania come primo mercato seguita da Polonia e Repubblica Ceca è molto importante anche la parte austriaca e quella italiana di prossimità invece per quanto riguarda l'estate è molto più variegato il dato e per esempio ci sono ottime performance beh, chiaramente la Germania sembra un'ottima performance ottime performance degli Stati Uniti del mondo anglosassone quest'anno della Spagna e cominciano ad arrivare i paesi dell'est anche in estate e questa è una cosa che non capitava fino a qualche anno fa e cominciano ad arrivare anche paesi dell'est che non ci aspettavamo perché per esempio c'è una parte diciamo economicamente più importante della Romania che comincia ad arrivare c'è una parte della Slovenia che comincia ad arrivare una parte della Croazia e della Serbia arrivano mercati anche da est molto importanti bellissimo anche l'incremento del mercato francese alcune volte dipende molto dal turismo delle radici cioè dal fatto che vengono a vedere dove sono nati i nonni dove sono nate le persone a loro cara ok, ok e senz'altro molti si saranno accorti che negli ultimi anni è aumentata parecchio la visibilità mediatica della provincia di Belluno basti pensare solo alla recente messa in onda del programma che ha visto come conduttori Daniele Marcassa e Patrizio Roversi in questo tour del territorio provinciale anche questo sta portando risultati in termini poi concreti di scelta della provincia come meta di viaggi sì, certamente adesso si è cercato veramente di fare un progetto io arrivo da quel mondo si è cercato di fare un progetto di visibilità completa della provincia di Belluno e di far vedere anche luoghi che noi solitamente non avevamo mai narrato ultimamente siamo andati sia su quella trasmissione che su Linea Verde Grand Tour che ha visto per esempio il mondo delle spade è molto importante far capire che noi eravamo un sistema economico collegato al Piave collegato a Venezia fino a 200-300 anni fa perché oggi il turista è quello che cerca cerca un'esperienza un'emozione un'emozione nuova vedere posti nuovi e essere diciamo informato su tematiche nuove e poi adesso ne verranno ancora tanti di meccanismi mediatici ne arriveranno sia in autunno adesso a breve ce ne saranno alcuni che in inverno e poi con la primavera si inizierà proprio con altri meccanismi di altro tipo che spesse volte sono collegati anche a delle tematiche che vogliamo sviluppare per esempio con la televisione Sky stiamo sviluppando una tematica adrenalina proprio per far vedere tutta la parte adrenalinica della nostra provincia kitesurf, canyoning, parapendio, cascate di ghiaccio freeride perché i target sono diversi noi bisogna rivolgersi a un turista sempre diverso che può essere il turista famiglia il turista giovane il turista anziano noi dobbiamo essere presenti su tutti i target certo essere il più versatili possibile altro tema le olimpiadi saranno nel 2026 mancano ancora un po' di anni però bisogna iniziare a lavorare si è iniziato a lavorare però bisogna continuare su questo assolutamente il 2026 è domani sembra lontano ma è domani sicuramente ci arriveremo attraverso due bellissimi appuntamenti che sono le finali di Coppa del Mondo di scia che ordina il prossimo anno del 2020 e i mondiali di scia del 2021 che ci permetteranno sia di prepararsi perfettamente per le olimpiadi del 2026 che di testare alcune idee che noi abbiamo è molto importante capire che le olimpiadi sono di un territorio cortina deve essere il faro di un territorio unito nel promuovere questo meccanismo unitariamente è molto importante anche parlare di due aspetti il primo aspetto è che ci saranno anche le paraolimpiadi e quindi di fatto ci sarà tutto un mondo collegato all'accessibilità e tutto un mondo collegato a rendere le dolomiti disponibili per tutti questa è una cosa molto molto importante e al fatto proprio che cortina avendo vinto questa assegnazione dell'olimpiadi 2026 cortina e il territorio circostante saranno anche sedi di allenamento di tantissime nazionali nei prossimi anni e quindi genererà tutti gli anni un determinato tipo di percorso di avvicinamento alle olimpiadi 2026 certo e come dicevi anche prima fuori intervista bisognerà testare questo periodo utilizzarlo come banco di prova anche per correggere eventuali errori commessi ed evitare di rifarli insomma quello è importantissimo perché bisogna per esempio capire la raggiungibilità dei luoghi adesso io non mi fermo alla raggiungibilità Venezia e Cortina ma mi fermo proprio a capire come un turista che alloggia nelle valli limitrofe che possono essere Val di Zollo Val Comelico Cadore o Agordino o Fodom si possa poi muovere attraverso i meravigliosi passi per arrivare a Cortina a vedere queste gare e quindi noi bisogna essere preparati in tutto certo e ospitalità come siamo messi? allora in questo momento qui come dicevo è un momento di cambiamento anche per l'ospitalità c'è un ringiovanimento di chi fa ospitalità che è assolutamente positivo sì anche perché c'è più utilizzo dei meccanismi di prenotazione perché bisogna verificare un fatto che è vero che esistono i meccanismi di prenotazione come le online travel agency sì come può essere Booking per esempio però bisogna saperli usare non bisogna essere usati bisogna saperli usare questa è una situazione molto importante perché per saperli usare devi aver fatto determinati corsi formativi ma non sono formativi a livello informatico ma anche a livello di come si fa trattativa con questi meccanismi perché noi non ci rendiamo mai conto per esempio quale può essere il punto di partenza della vendita della camera che è il prezzo io quando faccio la domanda fatidica ma tu sai quanto costa la tua camera vuota non c'è nessuno che è capace di dirmelo perché se noi non sappiamo quanto costa la camera vuota quanto ci costa tenerla vuota noi non riusciamo mai a dare un prezzo a quella piena certo certo e non è il prezzo che fa il vicino di casa bisogna sapere quanto costa la camera vuota esatto e da questo punto di vista i nostri vicini speciali a statuto speciale hanno da insegnare cosa dici? sì ma non è una questione di insegnamento secondo me loro hanno fatto un percorso che arriva da 20-30 anni in cui c'era un decalogo che dovevano rispettare soprattutto l'alto agi in questo caso un decalogo passate di mettermi tra virgolette quasi imposto per spendere in modo virtuoso i soldi dell'amministrazione in questo decalogo c'era tanta accoglienza e quindi sono un po' cresciuti attraverso questi dettami noi siamo un po' diversi nel senso che siamo intanto in varie zone possiamo proporre cose diverse siamo un po' più particolari perché per esempio noi siamo stati in una zona ad alta vocazione manifatturiera e industriale quindi si è un po' perso per un po' di anni questa vocazione turistica ma che in questo momento sta tornando in maniera importante in tutte le generazioni sia le generazioni che hanno una certa età che le generazioni che cominciano adesso da facersi il mondo del lavoro ti faccio un'ultima domanda ricollegandomi al discorso dell'accessibilità che mi facevi poco fa il progetto Dolomiti Accessibili quanto anche è stato diciamo penalizzato da Vaya perché sono stati diversi se non sbaglio i percorsi su cui si era andato a lavorare che sono stati poi anche danneggiati dalla tempesta sì però Dolomiti Accessibili era già tarato su un tema molto particolare perché adesso noi stiamo creando Belluno per tutti no? sì e quindi sarà l'unione di Dolomiti Accessibili e di Prealpi Accessibili sì ma quando si fa un percorso accessibile nella disabilità e io stesso me ne sono reso conto perché ne ho fatti moltissimi grazie a Lassi Ollus grazie a Oscar De Pellegrini e Stefano Perale perché è stato per me una scoperta un mondo di una conoscenza continua di capire quali sono veramente gli ostacoli perché delle cose che a noi non sembrano ostacoli effettivamente poi sono ostacoli quindi i percorsi che erano stati scelti per Dolomiti Accessibili che avevo seguito come Fondazione Dolomiti Unesco erano tutti percorsi molto particolari e molto facili e erano stati scartati i percorsi che invece nella mia mente consideravo facili perché hanno delle difficoltà oggettive anche di dunette di banali dune di banali diciamo sghiaiamenti o cose del genere e quindi bisogna stare molto attenti quando si fa un percorso accessibile bisogna essere perfetti sia nel tipo di percorso che permette di arrivare a un rifugio ma anche nell'accessibilità di questo percorso stesso se c'è una sbarra all'inizio oppure no per esempio quindi siamo stati molto attenti a tutto questo e grazie a Dio sono tutti i percorsi che da Vaia non sono stati toccati ah ok bene questo è positivo va bene io concluderei qui a meno che tu non abbia altre riflessioni altre cose che vuoi dire comunicare no l'ultima cosa di cui non abbiamo parlato è che stiamo creando il prodotto vari prodotti turistici abbiamo iniziato dal bike che ha avuto un successone adesso per esempio ne faremo uno molto carino con Lolly Planet che è i luoghi dove innamorarsi nella provincia di Belluno bellissimo speriamo di presentarlo il 14 febbraio il prossimo anno così è San Valentino e sanno dove venire a innamorarsi ok ci puoi anticipare qualcosa si esistono dei luoghi spiegarsi un po' meglio ogni volta che mi muovo nella mia provincia ci si innamora ogni metro ci sono alcuni luoghi incredibili come può essere il cuore di San Lucano il core de Taibon che però è un cuore che deve essere raggiunto solo con le guide alpine attenzione perché è un territorio che è molto particolare e quindi io dico sempre di rivolgersi alle guide alpine che sono preparatissime nella nostra provincia oppure per esempio ci sono dei luoghi che ti stupiscono per esempio mi viene in mente i Brendelart quando si ghiacciano si genera una fascia di luce a forma di cuore all'interno dei Brent ahimè non si ghiacciano tutti gli anni però è stupendo ma esistono sono belli anche se non si ghiacciano sono belli anche se non si ghiacciano ma ci sono dei momenti proprio particolari come per esempio adesso esorto andare a vedere il bramito dei cervi perché ci sono alcuni posti in provincia che sono bellissimi e vedere il bramito o solamente ascoltarlo è spettacolare certo certo e quindi questo e poi quello relativo alle bike dicevi già realizzato no no si sta facendo adesso si partirà anche per esempio su un prodotto agroalimentare devo fare una riunione a breve con le associazioni di categoria che riguardano l'agricoltura e poi ci saranno prodotti chiaramente relativi all'inverno come può essere le piste da uscire ciaspole i vari percorsi di vario tipo ma anche relativi a prodotti turistici di 365 giorni all'anno come può essere il convention bureau cioè l'insieme delle sale meeting che noi possiamo proporre a un turismo congressuale come può essere i musei le ville e i castelli o come possono essere per esempio i laghi e le cascate della provincia di Belluno che possiamo vedere in tutte le stagioni dell'anno e quindi riusciremo a creare un prodotto a 365 giorni all'anno che è sempre stupendo e fruibile perfetto Giuliano ti ringrazio grazie a voi e buon lavoro perché fra territorio bellunese Italia e mondo giri come una trottola se possiamo non possiamo dirlo sì decisamente e allora ti auguriamo buon lavoro grazie per aver accettato il nostro invito per aver risposto alle nostre domande e ci vediamo presto e ci aggiorneremo anche sul proseguo dell'attività della DMO grazie a voi grazie Giuliano a presto grazie a tutti per l'ascolto al prossimo appuntamento grazie